E ritorniamo in studio. Domani si festeggia Sant'Eligio, patrono dei Fabri e Daffini, che raccoglie in esso tutte le categorie che lavorano con i metalli tramite il fuoco. Come ogni anno la confraria di Sant'Iloilo festeggia con una cerimonia nella parrocchia del Santissimo nome di Gesù. Alle 11 è prevista la messa, seguirà la benedizione dei cavalli sul sagrato della parrocchia e la processione per le vie del quartiere. La cittadinanza è invitata a partecipare. E sempre domani, ma alle ore 17, nella sala convegni dell'Hotel Catalunia, verrà presentato il decimo volume della poetessa scrittrice Lina Brundu, Il senso della vita 2. Sarà illustrato dalla Milaglio Vittorio Ghillotto, il dottor Piras, dalla dottoressa Fabiola Chessalobrano, dalla dottoressa Dele Loriga, Camoglio e dalla dottoressa Rita Meloni, con la lettura accompagnata dall'ensemble Artemis. Il dottor Ghillotto esprime il suo giudizio per la lirica, l'impronta del destino, poesia che suscita sentimenti, forti emozioni e passioni del proprio essere. Questo è ciò che fa grande un artista. E sempre domani, lo Spazio T, scuola di teatro, centro di aggregazione e produzione teatrale, organizza uno speciale aperitivo dedicato agli accessori ideati e realizzati a mano da Francesca Soggio in arte. Franci Gherl, alle 19 per il consueto appuntamento della domenica, Chiara Murru proporrà alcuni divertenti monologhi tratti da Sessoris di Gloria Calderon-Cellette. La serata vedrà la partecipazione straordinaria della Drag Queen Sequence Knowles, la mostra vuoto a perdere, la prima della rassegna Mostra T. Dopo il reading, come di consuetudine, verrà offerto un assaggio no gastronomico. L'ingresso è riservato ai soci e per l'occasione si rinnova la speciale campagna associativa a 5 euro. Ed ora passiamo allo sport, domani è in calendario, la tredicesima giornata del campionato di eccellenza. L'Alghero ospita il Mariotti in Muravera e il Fertilia va a casa dei Castelsardo. In eccellenza domani si gioca la tredicesima giornata. L'Alghero sarà impegnata sul campo di casa del Mariotti dopo due trasferte consecutive contro Carboni e Latte Dolce. E proprio i sassaresi hanno stoppato con un sonoro 4-0 la ripresa dei giallorossi che sette giorni prima, con la guida di Mister Nuoto, avevano ritrovato i tre punti. Quella che attende la formazione algherese non è per niente una gara facile. Al Mariotti arriva il Muravera di Lulu Oliveira che in classifica sta sopra gli algheresi di due punti. La partita sarà difficile proprio per questo motivo. Le due squadre lottano per lasciare la zona bassa e più pericolosa della graduatoria. Staremo a vedere se l'Alghero riuscirà a ottenere una vittoria di fronte al pubblico di casa. La vice capolista Fertilia lascia il campo del Mariotti dove ha giocato per due turni di fila e va a disputare sul campo del Castelsardo la sua tredicesima giornata. La formazione allenata da Mister Paba ha perso così come Olbi e Porto Corallo, la testa della classifica, visti i pareggi e la concomitante vittoria del latte dolce, nuova prima della classe. Urge ritornare al risultato positivo lasciando stare quello X che ha caratterizzato le gare dei canarini nelle ultime due giornate. Buone notizie sul versante delle presenze. Paba avrà tutti disponibili visto che ha recuperato anche Agostini e Pinna. Anche in seconda categoria si gioca la tredicesima giornata. La Pietra Ialghero, vice capolista con 24 punti, si prepara per andare a giocare sul campo del Monserrato. Sette giorni fa la squadra di Mister Corredo ha perso 2-1 contro la capolista Atletico Uri. I tre punti sono fondamentali per riagguantare il primato. Il Maristella, invece, reduce dalla bella vittoria casalinga dello scorso turno per 5-1 con la Rob Ursenuri, sarà impegnata proprio sul campo della San Domenico. Vincendo la formazione guidata da Mister Bardini non solo guadagnerebbe punti importanti per scalare ulteriormente la classifica, che li vede ora a quarti a 21 punti, ma potrebbe agganciare proprio i Cugini a 24. Ed ora il rugby. Dopo tre settimane di stop per i test match delle nazionali, ritornano in campo le squadre di rugby nei vari campionati, in quello di Serie A Girone 2. L'amatori Novaco Alguero affronta domani i piemontesi del Custorino, orario d'inizio della gara fissato per le 12.30. Dopo tre settimane di stop ritornano in campo i vari campionati di rugby, in quello di Serie A 2, l'amatori Novaco Alguero si prepara per la gara di domani contro il Custorino. I piemontesi non sono una compagine facile da affrontare, tutt'altro. In queste prime sei giornate di campionato hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta e hanno due gare da recuperare. Ma questa squadra pare proprio essere la vera rivelazione del campionato. Neopromossa dalla Serie B, può contare su una compagine formata da ottimi elementi. Tra le sue fila gioca anche l'ex di turno Willem Heymans, che ha giocato per due anni ad Alguero. Guardando in casa amatori, la squadra è in forma, pronta a fare bene. Il 15 di Gert Pins, che si è comportato positivamente prima della pausa, salendo fino al sesto posto e mettendo in cascina 13 punti. Durante la pausa ha continuato gli allenamenti e per la gara di domani saranno tutti a disposizione, tranne Daniele Franchin, sempre alle prese con uno strappo muscolare. Per il resto è rientrato anche Fangatapu Apicotoa, che dopo i test match internazionali con la sua nazionale del Tonga, ritorna a vestire la maglia dell'amatori. Ed ora sentiamo proprio l'intervista che abbiamo realizzato con il giocatore tongano Tapu, che a rientro dagli appuntamenti con la sua nazionale ci ha parlato di queste esperienze e di come si trova ad Alguero. L'intervista è stata resa possibile grazie anche all'aiuto del capitano della Novaco, Tony Daga, che ha tradotto per noi. E oggi siamo in compagnia di due regbisti, abbiamo niente poco di meno che il capitano dell'amatore rugby Alguero, affiancato da Fangatapu Apicotoa, che è il nostro giocatore tongano, apertura della sua nazionale, che bene ha fatto nei test match di novembre. Approfittiamo intanto di Tony, ti chiediamo subito di tradurci qualcosa perché Tapu parla lingua inglese. Vogliamo chiedere a lui intanto come si trova ad Alguero, visto che non l'abbiamo mai potuto intervistare. Vogliamo chiedere a Alguero? Vogliamo chiedere a Alguero e le persone che vivono in la città? Sì, ovviamente, perché quando ero a venire a Francia e a Milano in Plessia, questa è la domanda per tutte le persone che mi chiedono a me, come è Alguero. Questa è la mia risposta, ho chiesto di dire che bui persone, come una buona squadra, mi piacciono davvero. Ha detto che i suoi amici che ha trovato l'assi a Brescia che a Milano, quindi anche gli altri ragazzi della nazionale Tongana gli hanno chiesto come stava ad Alguero e come si trovava. Gli ho detto che questo si trova molto bene, sia come città, come persone e anche come team. Allora dai chiedo a te di chiedere a lui, come vede intanto il campionato che state disputando in questa prima fase? Sì, mi chiedo a te di chiedere a tutti i nostri campionati, come si trovato a tutti i nostri campionati. ma la squadra gioca e vengono, quindi non si gioca molto bene senza me e questo è un buon signore per noi. Ha detto che stiamo andando bene quest'anno, anche le ultime due gare fuori casa ci hanno portato dei punti e anche le gare che abbiamo giocato senza lui, che sono state due lo stesso, abbiamo vinto e questo è un ottimo segno anche per la squadra. E adesso come ultima domanda voglio chiederle i test match di novembre. Lui ha giocato, si è ben comportato, si è orgoglioso comunque di essere l'apertura della sua nazionale. e questo è il test match di novembre, hai una prigione per giocare con la tua nazionale squadra? Sì, sono davvero molto orgoglioso di essere l'apertura per giocare per giocare per giocare per giocare per giocare. Sì, sono davvero molto orgoglioso di essere l'apertura per giocare per giocare per giocare per giocare per giocare per giocare per giocare. perché è stato davvero molto orgoglioso di giocare per 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 Lui già giocava con la nazionale Tongana quattro anni fa, poi ha avuto un infortunio duro, serio e il dottore gli ha dato uno stop di un anno. Dopodiché, tornato qua da Alghero in questi due anni, si è rimesso di nuovo in piena forma, la nazionale Tongana l'ha richiamato e lui è stato orgoglioso di rispondere a questa chiamata per rivestire ancora una volta i panni della 10i Tonga. E dalla palla ovale al karate, domani a partire dalle 9 presso la palestra del Palamanchia, recentemente tornata alla fruizione della città, la società Valverde ha organizzato una gara di karate giovanile specialità combattimento. Ne ha parlato ai nostri microfoni il maestro Maurizio Gobbino. Maestro Maurizio Gobbino, domenica ci sarà una gara importante per voi, ce ne vuole parlare? Sì, è una gara importante per noi perché inizia la prima dell'anno sportivo 2012-2013 ed è la prima più o meno che si fa a livello anche regionale. È un trofeo di combattimento giovanile, di propedeutico, diciamo, combattimento per i bambini di 5-6 anni, poi arrivare fino alle categorie 14, 15 e 16 dove faranno veramente un combattimento secondo le regole federali. E niente, abbiamo cercato di promuovere questa disciplina e quindi fare un girone all'italiana. Quindi tutti i bambini si troveranno contro tutti, chiaramente nella propria categoria, divertendosi e facendo esperienza. Quindi aspetto la gente che venga a tifare, i ragazzi algeresi e anche non algeresi perché il tifo va fatto correttamente, e vedere questa bella manifestazione con questo spirito agonistico ma di fair play. E con questo invito del maestro Maurizio Gobino si chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Prima di lasciarci vi ricordo che questa sera alle ore 21 Catalan TV trasmetterà la seduta del Consiglio Comunale di ieri in versione integrale. È davvero tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.